Oggi come allora, uniti rinasceremo. Così comincia il messaggio inviato questa mattina dal sindaco Vincenzo Napoli alla popolazione di Salerno. Il sisma che 40 anni or sono sconvolse Campania e Basilicata resta la più grande catastrofe naturale della storia italiana moderna, scrive Napoli. Tutti e ciascuno siamo chiamati in questione a ritrovare quella solidarietà e quell'unità che ci aiutò a superare il terremoto dell'80 come supereremo il Covid-19. E un ricordo commosso di quel giorno arriva anche dall'arcivesco di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Questa data è impressa anche nella mia memoria perché fa parte ormai della mia storia in quanto pastore della chiesa di Salerno Campania Cerno e molti paesi fra i più colpiti dell'Alta Valle del Sele che facevano parte allora della diocesi di Campania e adesso fanno parte della nostra diocesi. Per cui sono fratelli e sorelle della nostra chiesa che 40 anni fa hanno perso figli, genitori, mogli, mariti e amici. E quindi come non ricordare con commozione nella preghiera di suffragio cristiana le tante vittime che sono accadute in quella terribile serata di domenica 23. E come però anche non dimenticare, e questo lo sottolineo nel mio messaggio, quel seme di resurrezione espresso nella gara di solidarietà, di condivisione che ha visto in prima linea tanti parroci, tanti volontari, tante realtà quali la protezione civile, la Caritas, oppure singole persone che hanno voluto dare il proprio contributo da subito alla ricostruzione. Grazie